Sono nato lì in me, provincia di Cosenza. Ho sentito l'amico che parlava della Calabria a poc'anzi e mi sono un po' conosco. E volevo solo dire che la Calabria è una terra di cultura. Io per motivi di lavoro l'ho lasciata nel 1965 all'età di 12 anni. L'epoca del ditto. Ho andato a lavorare in Svizzera e ho fatto per tanti anni la gavetta. Adesso ho una moglie, un figlio che si sono fuori e che devo dire mi danno tanto piacere perché sono molto grati in Italia. La musica la conosco poco, la musica vostra è un vero ricordo all'Universone da quegli anni, ricordo i collage e altre musiche leggeri. Però sono contento che voi ragazzi fate quella bella musica degli anni 70. Un applauso a questi giovani. Viene tra oggi. Grazie.